proviamo a cercare il dominio delle tre funzioni che vedete sullo schermo effettuando opportuni richiami relativi alle proprietà delle funzioni esponenziali e alle potenze partiamo dalla prima funzione nel caso del primo esercizio abbiamo una funzione esponenziale che abbiamo già introdotto in questo canale youtube in un altro video che potete trovare cliccando sul link che apparirà da qualche istante qui in alto in cui abbiamo definito appunto ciò che vedete in questa cornice gialla con cui vi ricordo che una funzione esponenziale della forma y uguale a elevato alla x è definita quando la base della potenza considerata risulta maggiore di zero e in tal caso il dominio della funzione corrisponde come l'insieme di tutti i numeri reali ma attenzione nel nostro caso l'esponente della funzione considerata non è x ma una funzione più elaborata per cui dobbiamo estendere le considerazioni appena proposte al caso in cui l'esponenziale ha come esponente una funzione f di x e quindi complessivamente sarà definito comunque quando la base a risulta maggiore di zero ma solo per i valori di x che appartengono al dominio della funzione visto che per valori che non appartengono al dominio della funzione f di x non esiste quindi non può nemmeno essere calcolato il valore complessivo dell'esponenziale quindi tornando al nostro caso la funzione y uguale 9 elevata alla radice di x meno 1 rappresenta un esponenziale ben definito perché la base è maggiore di zero ma la funzione che rappresenta l'esponente è una funzione irrazionale intera che ha come dominio l'insieme dei valori di x per cui radicando quindi x meno 1 risulti maggiore o uguale di zero e risolvendo la disequazione ottenuta possiamo concludere che il dominio è definito da tutti i valori maggiori o uguali di 1 ma passiamo alla seconda funzione introdotta all'inizio del video e in tal caso osserviamo che si tratta di una potenza con esponente definito da un numero non razionale e che come mostrato nel video sulle funzioni esponenziali che ho allegato poco fa osservando in particolare che la potenza considerata nel caso in cui l'esponente risulti rappresentato da un numero non razionale positivo è definita per tutti i valori di x maggiori o anche uguali a zero nel caso di numeri non razionali negativi non avremmo potuto invece considerare il caso x uguale a zero perché le potenze negative avrebbero portato a scrivere l'espressione proposta come una frazione algebrica con denominatori pari a zero e quindi come un'espressione impossibile tornando a noi quindi potremo risolvere l'esercizio proposto calcolando il dominio quindi risolvendo la disequazione x quadro meno 1 maggiore o uguale di zero che ci porta a dedurre che il dominio della funzione considerata è definito da tutti i valori reali minori o uguali di meno 1 o da tutti i valori reali maggiori o uguali a 1 ma procediamo con il terzo esercizio come potete osservare è un bel mix nel senso che sia la base che l'esponente risultano variabili per cui osserviamo innanzitutto che la x deve essere diversa da zero affinché sia definita la funzione che rappresenta l'esponente e in tal caso per calcolare il valore della potenza complessiva per ragioni già citate e che potete approfondire nel video che ho condiviso e legata alla natura delle funzioni esponenziali la base definita dal binomio 2x meno 1 dovrà risultare maggiore di zero chiaramente queste due condizioni si dovranno verificare allo stesso tempo affinché complessivamente la funzione risulti definita e quindi considerando che due condizioni in matematica che devono verificarsi allo stesso tempo vanno messe tra virgolette al sistema risolvendo la seconda condizione osserviamo che x deve essere maggiore di un mezzo che è una condizione sufficiente a dire che si verifica allo stesso tempo anche la prima visto che tutti i numeri maggiori di un mezzo sono anche diversi da zero per cui possiamo concludere che il dominio della funzione considerata è pari a un mezzo più infinito è tutto chiaro?